A seguito delle forti precipitazioni dei conseguenti gravi danni verificatisi su gran parte del territorio calabrese tra il 14 e il 19 giugno scorso, la Giunta regionale ha provveduto a raccogliere le numerose segnalazioni di criticità pervenute dai vari comuni identi alla Sala Operativa della Protezione Civile e ha predisposto tutti i provvedimenti formali per la richiesta di dichiarazione dello Stato di emergenza da sottoporre entro domani all'approvazione del Governo nazionale. A riferirlo è una nota dell'ufficio stampa della Giunta calabrese. Gli intensi ed estesi fenomeni meteorologici accertati anche dal rapporto trasmesso dal Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACAL hanno colpito diffusamente e intensamente molte aree costiere interne della nostra regione provocando ingenti danni alle infrastrutture, alle attività produttive e al patrimonio pubblico e privato. Dopo aver superato la fase dell'emergenza e dell'immediato post-emergenza il gruppo di lavoro composto dai tecnici della Protezione Civile Regionale coordinati dal dirigente Carlo Tanzi ha redatto un primo report speditivo che illustra la portata degli eventi e la situazione di maggiore criticità rilevante. Il gruppo di lavoro con il supporto dei tecnici dell'ex autorità di bacino regionale della Camilab dell'Università della Calabria e della CNL IRPI quali centri di competenza del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile sta espletando con circa 30 unità di personale ulteriori sopralluoghi il tutto a sostegno della richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza non fronteggiabile per estensione portata dai singoli enti territoriali.